partita in cui mi sono cambiato le mutande più volte più volte veramente almeno quattro paia perché le euculazioni precoci che genera il sarrismo portano anche a questo prima di continuare con il video ti invita se non sei iscritto a iscriverti al canale a mettere un bel mi piace attivare la campanellina ecc fallo bene iniziamo a parlare della partita pronti via gol ovviamente mancherebbe altro la lazio cambia l'allenatore cambiano i giocatori però insomma la solfa è sempre quella mezza papera mezza guaya de reina la vogliamo dire diciamolo perché comunque il portiere spagnolo non è stato irreprensibile sul sul tiro del giocatore della spezia però gliela perdoniamo al buon pepe perché poi ha fatto anche un assist a felipe un assist a felipe anderson e parliamo però da lazio a tripletta di ciruzzi immobile potevano essere quattro con il rigore sbagliato non lo so perché poi il terzo quadro è arrivato dopo quindi bisogna vedere queste cose però ha fatto stare ragazzi tre gol di ciruzzi immobile quattro gol in due partite di che cazzo stiamo parlando c'è gente che ancora rompi i coglioni andate a vendere i lupini fuori dallo stadio veramente stiamo parlando del centramente italiano più forte degli ultimi tempi e chi dice il contrario non capisce nulla di pallone e all'europeo non si è espresso al massimo perché come tutti quanti i giocatori ha bisogno di un certo tipo di gioco pippo in zaghi non riusciva a stoppare una palla tante tutti è considerato un fenomeno totò schillaci è considerato un grande del calcio italiano ciccio graziani è considerato un grande del calcio italiano vinto il mondiale però tutta gente scarpare che però no ravanelli ciruzzi immobile no andatevene al fanculo andatevene al fanculo è normale che se vuoi giocare col tiki taga con gente come bobo vieri pippo in zaghi lugatoni gilardino la gente non rende sono centramenti di un certo tipo ma se tu hai immobili il pallone in un certo modo quello segna quello segna sicuro se dovete stare parlano i numeri e chi dice il contrario non capisce niente andasse a fanculo si disiscrivesse dal canale si desse fuoco a piazza navona a campo dei fiori come il buon giordano uno allora ciruzzo voto 11 voto 11 partita assuntuosa di luisa alberto il mago 3 assiste un gol nel finale tanto che dico beh fammi fa pure un gol perché c'è sto incredibile felipe anderson ragazzi miei sombrero poi è partito a 300 all'ora un gol è un crociare di sinistro mamma mia felipe quanto so felice che sei tornato veramente e poi una nota di merito al buoni sai tutti quanti no perché i sai qual la no i sai 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 è un grandissimo terzino rispetto alla media del campionato italiano rispetto soprattutto la mente dei nostri terzini perché un giocatore che può giocare a destra a sinistra e all'occorrenza anche centrale è un giocatore che non eccelli nulla ma un po di tutto e so proprio felice che l'abbiamo comprato e veramente non non trovo una nota negativa l'acquisto di sai francamente la lazio che ha fatto 6 gol quindi una lazio praticamente quasi perfetta c'è proprio da dire il buon pedro in una squadra tecnica come la lazio ci sta a meraviglia dal centrocampo in su siamo mostruosi perché lei va milinkovic alberto immobile anderson pedro poi quei due ragazzetti moro e romero sono dei giovani veramente che secondo me già danno quel qualcosa per far sì che possano essere delle riserve importanti e in ragione di ciò più che Kostic che comunque io prenderei mi concentrerei sul famosissimo ormai atavico e probabilmente impossibile da prendere ruolo del difensore centrale perché chi è stato titolare accanto ai cerbi l'altro giorno Patrick Caparon sempre lui ciuffo biondo numero 4 sulle spalle l'immortacci sua titolare come sempre ovviamente non ha giocato male però eravamo contro lo Spezia adesso bisogna contestualizzare insomma non vinceremo sicuramente il campionato perché però mi fa piacere giocare in questo modo a Garibaldina purtroppo ragazzi Patrick Caparon ma più che Patrick Caparon Ramos che già si è fatto male e già starta la seconda partita è un giocatore fracico giocatore io odio perché è bravo gioca a pallone nessuno lo mette in dubbio però quando sei fracico così devi cambiare sport cioè non è proprio non è proprio cosa non è proprio cosa secondo me veramente un difensore centrale che ti salta 20 partite l'anno io non lo so si serve un difensore centrale importante se riuscissimo a prendere Romagnoli sarebbe veramente un sogno questo perché perché quest'anno la Lazio è forte la Lazio è forte però serve come ho detto più video il portiere fra Reina e Stragoscia diciamo che più o meno dai diciamo che va bene per quanto a me un portiere affidabile di un certo tipo farebbe comodo un difensore centrale serve come il pane è imprescindibile per puntare a certi livelli di risultato finale in campionato perché attualmente non possiamo essere sicuramente in lotta per lo scudetto questo è ovvio per un piazzamento champions sicuramente sì ma per lo scudetto e dico scudetto perché quest'anno francamente con mai come quest'anno non c'è una mazza campionato a mio avviso e dovremmo provarci dovremmo provarci perché alcuni giocatori della Lazio secondo me sono da scudetto e altri ovviamente no e soprattutto le riserve ragazzi le riserve sono imbarazzanti la maggior parte dei casi quindi è il motivo per cui io penso che la Lazio non sarà assolutamente da scudetto adesso il sarrismo la cosa importante che deve fare è farci divertire e di questo sono veramente felice perché finalmente mi diverto a prescindere da sei gol che sei gol non è che gli può fare tutte le partite però si gioca si vedono gli schemi si vede si vede un certo tipo di calcio provato e un allenamento e no cose perché che cazzo ci faccio non il 352 che vive di sovrapposizioni fa e braccetti 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 vaffanculo te braccetti ovviamente in zaki voglio bene gli auguro il meglio non dico però a me è proprio il 352 che mi dà fastidio il 351 1 1 quello che cazzo la defesa 3 in generale non mi piace perché la ritengo limitativa quindi dicevo un difensore centrale un vice leva perché leva scordatevi che faccia tutto il campionato e poi ovviamente l'ala e purtroppo con l'avvio del panterone laddove il nostro super bomber perché di super bomber si tratta ciro immobile dovesse star male ci abbiamo morice e queste sono le motivazioni per cui secondo me la lazione è assolutamente da scudetto ovvero il difensore centrale e il mediano di riserva e il centro avanti di riserva diciamo l'ala la metto in ultima analisi perché romero e come diciamo quell'altro moro secondo me sono due giocatori che possono dare loro contributi detto questo sarrismo sarrismo a tutto spiano sarrismo a tutto spiano eiaculazioni precoci cambi di mutande perché questo quello che noi ci aspetteremo quest'anno se la pazzi gioca così cambi di mutande repentine poi non vinceremo niente però almeno ci divertiremo l'importante è divertirsi il calcio io come inzaki non mi divertivo per quanto è stato un grande allenatore e lo ringrazierò per sempre e non ho niente contro inzaki tant'è vero che poi con l'inter sta facendo bene già da adesso due vittorie siamo a sei punti tutti e due però permettetemi di dire però sarri è un'altra cosa sarri è sarri è il calcio a prescindere da poi il risultato che ci sarà sarri è il calcio come è il calcio zeman gente che vive di utopie gente che vive di pensieri che vive di schemi sarri zeman bielsa guardiola possono piacere non piacere ma hanno la loro filosofia la portano avanti e io sono innamorato di sta gente gente che c'ha una propria idea di calcio no gente che fa e non sia coi fichi secchi grazie a tutti quanti per l'attenzione e vi invito a iscrivervi al canale un abbraccio dal vostro gusturgus88 vi ricordo i nostri contatti che sono su instagram bigus official io personalmente invece mi trovate come gusturgus88 un abbraccio e sempre forza Lazio viva il servismo un abbraccio